Secondo passaggio, sempre qua a Bergamo, ho perso il guanto, eccolo, questa volta me li tengo dopo il buco di prima, Cristo, aspetta, vieni giù ad agio. Vieni, vieni ad agio, aspetta, 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 da dove l'ha detto il guanto? Falla scendere qua, 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 ah ok, Enrico, è il secondo dalla tua telefonata, occio, aspetta, devi saltare più dietro, se no viene troppo di punta, adesso vieni giù, vieni avanti, vieni avanti, hai un metro, vieni avanti, qua, eccolo, vai. Stop, cazzo, non è venuto giù, ok, non fai niente, no, aspetta, 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 no, perché se no ti punta, ecco, ok, ti abbasso un po', ce l'hai? Aspetta, aspetta, eh, ce l'hai il freno? Sì, il freno sì, ce l'ho sempre io, aspetta, ok, aspetta, sta puntando, scendi, e tienila lì, la faccio scendere io, tienila eh, tienila, non la putta, tienila giù, tienila giù, ok, aspetta, vuoi ti prendo o la tengo così? Tienila giù, ho il sasso qua dietro? Sì, pappan tuo, ahahahah, è andata, è andata! Cazzo, guarda che passaggio, un altro passaggio così cazzo sono pezzi, ma anche io, ma che roba, a parte che i video per quello che rendono Ok andiamo